www.marizopoli.it, catastrofi naturali che assistiamo purtroppo in questo periodo. Riporto l'articolo, nel Corriere della Sera, che andate a leggere poi per approfondire. Il 75% delle abitazioni italiane è a rischio elevato di calamità naturali di vario tipo. Purtroppo però solo il 5% delle abitazioni italiane è coperto contro questi eventi. Come funzionano queste polizze? Cosa coprono? È un'estensione della polita base incendio e scoppio, si può chiedere la propria assicuratura, la propria consulente finanziaria e patrimoniale. È un'estensione della polita stessa e copre tutti i danni materiali diretti alle cose che sono state causate da terremoto e alluvioni, compresi da incendio, esplosione o scoppio, che sono dirette a conseguenza dei suddetti eventi. I costi sono medi, devono dare 150 euro in media, senza le tasse, quindi vi portate poi i calcoli che ha fatto Ania, e quindi un suggerimento, una valutazione per la protezione della propria abitazione. Così un suggerimento, una valutazione per la protezione della propria azienda, con i beni contenuti all'interno dell'azienda stessa. Conoscere per decidere. Alla prossima!